Il servettorio è aperto Aspetta, serbatoio a sinistro Pista libera, vediamo Ok, Alessandro, non lo vedo Decolla l'India 7087 Diciamo un giro Decolla l'India 7087 4600 giri 600 piedi sulla quota mare Oggi abbiamo usato l'altimetro A 330 piedi Che è 110 metri di altezza del campo Saliamo ancora un po' E vediamo se incrociamo Alessandro Allora, la nostra velocità è 152 km all'ora Stabilizziamo 1000 piedi di quota Alla tua sinistra si affianca Alla tua destra sono Alla tua stazione Ok, all'essandro qui vengono Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Bellissima linea il tuo apparecchio, il tuo aereo Lido a sinistra Lido a sinistra Lido a sinistra Inizio una lente abigrante a sinistra Lido a sinistra Grazie a tutti. Grazie a tutti.